Presenteremo delle interrogazioni per avere chiarimenti ancora più dettagliati se possibile su quelli che saranno gli argomenti principi della giornata, cioè TEAM e TEAM-TECH. Le risposte alle interrogazioni della volta scorsa non sono assolutamente soddisfacenti, almeno quelle che sono pervenute, quindi la maggioranza e l'amministrazione in particolare dovranno chiarire altri aspetti. La TEAM ha un problema, ce l'ha con il Comune, che noi approviamo in Comune il cosiddetto piano tariffario sulla quale viene calcolata la tassa, cioè noi paghiamo all'incirca 12 milioni l'anno per raccogliere l'imbondizia a Teramo, parlando in maniera molto semplice. Noi approviamo un bilancio in consiglio preventivo, cioè di quello che ogni anno si pensa di spendere per raccogliere e smaltire il rifiuto. Poi non abbiamo mai il consuntivo, se pensiamo che per l'amministratore di condominio si può revocare per giusta causa dopo due volte che non presenta il bilancio consuntivo perché io devo sapere cosa tu fai dei soldi che io ti do, immaginiamoci in una pubblica amministrazione che sono cinque anni di gestione senza avere un consuntivo. Noi ad oggi non sappiamo come viene calcolata la tariffa, su quali valori viene calcolata la tariffa e quindi è impossibile per il cittadino capire se sta pagando la Tari corretta oppure no. Quanto agli aumenti, insomma, credo che l'opposizione abbia già risposto tramite gli altri esponenti. Si tratta dell'ennesimo gioco di prestigio perché in realtà una parte di quello che c'era nella Tari è confluito nella Tasi e quindi non si tratta di diminuzioni ma semmai di aumenti anche consistenti.